Io ho una domanda invece, forse può sembrare difficile, noi sappiamo che hai, quanti programmi ti vuoi fatto? 62 e 63. 63, ragazzi, 63 programmi. Curriculum che è un papiro, la pergamena. Non li ho contati io, li hanno contati i giornalisti perché io non li ho mai contati e quando mi hanno detto quanti programmi hai fatto, l'anno scorso invece il Virasera del Corriere mi ha detto te li ho contati io, sono 63. Ma tutti come conduttrice? Sì, conduttrice, autrice, o giudice. A proposito di non autrice, io ho letto, non so se è una notizia corretta, che hai portato X Factor in Italia. Sì, insieme al direttore, allora direttore di Rai2, Antonio Marano, mi fece vedere questo format e voleva che io lo presentassi. siccome io venivo da una 37 puntate di quelli che è il calcio più l'isola dei famosi, che allora era veramente anche come impegno, era una cosa che mi impegnava tutto l'anno, perché noi tra il cast le cose, poi io durante i tre mesi dell'isola non dormivo mai perché venivo ogni notte, mi chiamavano dall'isola dicendo quello che era successo. Ovviamente, essendo sei ore di fuso orario, io volevo sapere tutto di quello che accadeva giorno per giorno, per cui io per tre mesi dell'isola non dormivo. Per cui mi ha beccato, ho detto, no, io l'ennesimo programma come compro, con tutrice non lo faccio. E allora mi fece vedere questo format. Allora la musica non era considerata la cosa principale, perché la musica era considerata la fossa delle Marianne della televisione. Cioè, tranne le grandi star, cioè nessuno dava credito ai cantanti, insomma, sconosciuti. Tant'è, e anche gli ascolti non ti premiavano quando tu lanciavi dei personaggi musicali. Per cui a noi avevamo trovato, a quelli che è il calcio, una cosa che sosteneva, una cosa forte prima, una cosa forte dopo. Certo, quando arrivava David Bowie, o Robbie Williams, o Adele, o il Coldplay, cioè abbiamo avuto tutti. Io lo ricordo, a quelli che è il calcio c'era proprio un momento dove cantava l'artista. Sì, esatto, ed erano momenti... Però noi, quando io sono arrivata a quelli che è il calcio, abbiamo fatto un discorso di qualità e abbiamo parlato con tutte le case discografiche, anche perché quelli che è il calcio, con la dipartita di Fabio Fazio, che l'aveva fatto per tanti anni, molto bene, devo dire, aveva portato via, insomma, tutta la sua struttura. Per cui era un foglio bianco su cui scrivere. Mi è venuto in mente, e ho preso questa assistente musicale bravissima, Vanessa Guarnera, che è la figlia, peraltro viveva a Londra, quindi la figlia di un musicista molto affermato. Gli ho detto, facciamo un discorso di qualità con tutte le case discografiche. È vero che possiamo avere David Bowie. Però loro ci dicevano, prendete David Bowie e altri 4-5 che ci sostenete, che ci fate lavorare. Allora noi abbiamo fatto un discorso di questo tipo. Abbiamo trovato una parte del programma che era sostenuto, per cui non era, non era, la fossa delle Marianne non era così fossa, profonda. E tra questi, tra questi che abbiamo preso, tra gli sconosciuti, è arrivata Amy Winehouse, è arrivata Lady Gaga, per cui, insomma, è stato bello, è stato bello. Amy Winehouse, tra l'altro, è stata con noi pazzesca, perché è arrivata nel 2004 e creò una magia incredibile. Dico, ma chi è? Cioè, i brividi in ogni dove, ancora adesso, dico, ma chi è questa, questo, questa, cos'è questa voce? Dopo, diciamo, dopo 4 anni, è tornata nel 2008, che era la star mondiale, consumata dal successo che non era riuscita a gestire, fondamentalmente, perché è un successo così fragoroso, planetario, eccetera, non è riuscito. Anche in poco tempo poi. e, però, è tornata in Italia, tutti la volevano, e lei ha detto, no, io torno in quella trasmissione che nel 2004 mi ha dato, mi ha dato fiducia, è stata, ed è tornata con questo gruppo e dopo un anno è morta. Wow.